Grazie Presidente, giusto una battuta sull'intervento precedente, in commissione su Collinieri c'era anche l'assessore che era pienamente in linea con quello che abbiamo detto, ma lasciamo stare, andiamo avanti. Allora, dunque, io ringrazio anche io i proponenti di questa delibera, quando ci sono persone che ragionano su questi temi e che coinvolgono i cittadini, è sempre un fatto positivo per la città. Diciamo che molti hanno detto che AMA è una società soltanto di spazzamento, e l'ha detto anche uno dei proponenti, che questa amministrazione è la prima che sta progettando impianti, è la prima che ha messo in atto tutti gli atti per realizzare degli impianti. Hanno superato la via, sono due impianti di compostaggio, non risolviamo completamente il problema dell'umido. Io condivido in pieno gran parte delle cose che sono state dette sull'analisi generale che sono state dette. Il problema centrale è esattamente l'umido, e infatti gli unici due impianti che sono stati programmati da Roma Capitale ad essere realizzati sono proprio per l'umido. Hanno superato la via, presto uscirà la gara per la realizzazione degli impianti, ci vorrà ancora un po' per realizzare questi impianti, ma se non c'è programmazione non si riesce a risolvere i problemi. Ora, non entro nelle polemiche spicciole perché l'intervento di tre minuti è particolarmente breve. Uno dei cardini della proposta che è stata sottoposta alla nostra attenzione è l'acquisto degli impianti di Malagrotta 1 e 2. Allora, noi dobbiamo pensare che in realtà questi impianti già oggi trattano i rifiuti di Roma. Se li dovessimo trattare sulla base di un acquisto e sulla base di un passaggio a fabbrica di materiali, avremmo una maggior quantitativo di raccolta differenziata rispetto a una raccolta non differenziata. Però c'è da dire una cosa, quello che manca a Roma è soprattutto impianti per la differenziata, per il porta a porta e per questo tipo di raccolta. Perché se noi continuiamo a fare impianti per la raccolta indifferenziata, a quel punto la parte differenziata deve avere anche quello a uno sbocco. Sia chiaro, qualcosa servirà, qualcosa servirà comunque sempre. Però ci auguriamo che non siano le 474 mila tonnellate che vanno adesso in Malagrotta 1 e 2. Per cui dire di poter acquistare questi due impianti, io non ritengo che sia quella scelta che bisogna fare in questo momento. Oggi abbiamo la priorità di dotarci di quegli impianti per la differenziata. Allora, facciamo questi impianti, ma la grotta 1 e 2, per quanto sia del materiale indifferenziato, passa già in questi impianti. Certo, potrebbero trattare più raccolta differenziata se fossero trasformati. Però forse non è esattamente questo il percorso migliore. Io vorrei ricordare anche un aspetto in particolare, e chiudo anche per passare alla prossima delibera. Questi impianti erano particolarmente vecchi, come ha detto il Presidente Diaco, e l'anno scorso addirittura sono... A dire, un blocco per fare degli aggiornamenti non è stato proprio un revamping, però per mesi sono stati fermi, prima uno poi un altro. Cioè io lo vorrei ricordare alla città. Noi, dopo l'incendio del Salario, per diversi mesi lo scorso anno abbiamo avuto uno dei due impianti di Malagrotta, 1 e 2, che sono stati fermi. Per cui stavamo con due impianti. Cioè questa è stata una cosa pesante per la città in termini di pulizia della città. Ecco, per cui le difficoltà che ha dovuto affrontare questa amministrazione sono state veramente delle difficoltà enormi con l'incendio del salario e con anche le difficoltà oggettive e tanti anche piccoli non aiuti che ci sono stati rispetto ai rapporti anche con la Regione. Allora, io ringrazio ancora i proponenti. Il punto cardine che per noi è un po' problematico è sicuramente l'acquisto degli impianti di Malagrotta 1 e 2 e pertanto dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie.